Partite da qualche giorno le prenotazioni per la vaccinazione contro il covid-19 dei soggetti la cui data di nascita sia compresa tra il 1942 ed il 1961 e le novità nei comuni della provincia non si sono fatte attendere. Sembra infatti che la somministrazione del vaccino per tutti coloro la cui età sia compresa tra i 79 e i 60 anni non possa avvenire nel comune di residenza come invece concesso ai soggetti più anziani. Gli under 80 dovranno recarsi presso altra struttura individuata dalla ASL di Taranto nel comune di Grottaglie. Immediato il malcontento dei cittadini che hanno espresso i propri disagi alle autorità e persino sui social, il sindaco di San Giorgio Mino Fabiano rivolge un appello al Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto. Voglio farmi portavoce presso il Dipartimento delle preoccupazioni che mi vengono rappresentate da tanti cittadini non solo di San Giorgio. Difficoltà nel raggiungere la sede indicata legate a problematiche di salute, di trasporto e accompagnamento. Date diverse per lo stesso nucleo familiare che quindi costringerebbero anche i coniugi a recarsi sul posto in due diversi momenti. Ed allora il sindaco Fabiano propone all'ASL di Taranto le possibili sedi con cui ovviare ai disagi. Quali sono le sedi che il sindaco Fabiano suggerisce? Noi abbiamo messo a disposizione dell'ASL le palestre dei nostri istituti scolastici ma anche il palazzetto dello sport che è sicuramente una struttura molto più grande che potrebbe ospitare un numero considerevole di cittadini sottoposti al vaccino. Le possibili sedi indicate da Mino Fabiano rappresenterebbero per lo stesso una valida soluzione ai disagi espressi dalla comunità. Si spera quindi che l'ASL di Taranto accolga l'appello del sindaco.